Anche Aldobelli scende in campo a sostegno di Sergio Tadi, candidato sindaco a Lodi. Inserito nella lista Guardare Avanti, cappeggiata da Gigi Bisleri, ha spiegato ai giornalisti le ragioni della sua scelta. Voglio contribuire con il mio apporto al rilancio dello sport in città, ha ribadito Belli, ricordando che una buona manifestazione sportiva è in grado di fare da volano anche all'economia locale. L'ha confermato Gigi Bisleri, rilevando comunque che sta diventando sempre più difficile allestire manifestazioni di spicco in città, troppi costi a carico degli organizzatori anche da parte degli enti pubblici che dovrebbero sostenere queste iniziative, ha concluso Bisleri. Nel nostro programma elettorale abbiamo inserito precisi impegni a sostegno dello sport, ha ricordato Sergio Tadi, a partire dalla realizzazione di nuovi impianti a disposizione di tutti. In particolare apriremo alla Faustina una pista di patinaggio all'aperto da destinare agli appassionati di questa disciplina sportiva, ha annunciato Belli. Non si faranno impianti faraonici come la nuova piscina coperta voluta dalla Giunta Guerini, della quale non si sa per quanto tempo riuscirà a restare in funzione.